Musica Musica Ciao a tutti ragazzi Buona vigilia a tutti voi Da parte mia Ben ritrovati qui sul mio canale Video su Verona Inter Settima vittoria Quindi consecutiva Dei nostri ragazzi Miglior attacco del campionato con 34 letti Restiamo quindi Sul pezzo L'importante era quello lì Non perdere la concentrazione Vincere questa partita Perché comunque la stanchezza Era evidente Bravi ragazzi Vittoria esterna Tre punti direi importantissimi In quel di Verona Perché Verona è comunque un'ottima squadra E Lo vediamo anche dalla posizione di campionato E quindi è una squadra Che ha battuto E ha messo in difficoltà anche molte grandi E questo Che battiamo Quindi due per due reti a uno Almente godi Prima però di analizzare la gara Farò un'analisi breve come ho questa volta E analizzare appunto la gara dell'Inter Voglio fare una piccola digressione Appunto per fare gli auguri A un grande campione nell'Azzurro Un grande uomo Un grande cacciatore dell'Inter E della Nazionale Che è Mauro Bellugi Auguri Mauro Purtroppo Ha subito una doppia amputazione Agli arti inferiori A causa di complicanze dovute al Covid Io gli faccio gli auguri da interista E forza Mauro Cerca di resistere Cerca di lo stesso Tirare avanti Mauro ha 70 anni Bellugi È un giocatore che tra l'altro Vinse lo scudetto Con la beniamata nel 71 Proprio l'anno in cui sono nato io Giocatore che non ho visto all'opera Non l'ho visto in campo Però l'ho visto nelle immagini Di repertorio Ed è comunque un grande campione Appunto di quell'Inter Forza Mauro I veri interessi sono con te Auguri di buon Natale E voglio Detto ciò Voglio fare gli auguri anche a Christian Eriksen Che attualmente è in Danimarca Infatti ieri non era neanche in panchina Perché è andato in Danimarca nella sua patria Per andare vicino alla moglie Perché sta diventando padre Quindi auguri anche a Christian Un Eriksen che come sapete Purtroppo non farà più parte del progetto di Conte Ma non ne faceva parte già da tempo Come altri Come Ninja e Vessino Che sicuramente saranno ceduti O dati in prestito Un Christian Eriksen Un Christian Eriksen Ritenuto dalla dirigenza Dallo staff di Conte Poco funzionale E incompatibile col gioco appunto Della narratore Leccesa E quindi sarà messo sul mercato Appunto in questa sessione invernale Di calcio al mercato O sarà dato in prestito Quindi auguri lo stesso Auguri da parte mia Christian Mi dispiace che la tua avventura Comunque all'Inter Sia stata così travagliata Così breve Però purtroppo Le cose sono andate così E pazienza Sulla gara Tornando alla gara Possiamo dire Che era fondamentale Vincere E prendersi appunto Questi tre punti In un campo comunque difficile Ostico per molte squadre Come Verona Ed era importante appunto Rimanere ancorati In questo secondo posto A un punto Da questo Milan Che continua a vincere In maniera Diciamo Impensabile E che sta facendo qualcosa di straordinario Applauso quindi ai nostri ragazzi Continuare così Prima di continuare a vincere Perché dobbiamo comunque Puntare allo scudetto E hanno fatto il loro dovere Anche ieri E l'importante E non perdere la concentrazione E rimanere appunto Come ho detto inizialmente Sul pezzo E continuare appunto A vincere E allungare questa Possibilmente allungare Anche questa striscia positiva Perché sette vittorie Comunque sono tante Sette vittorie consecutive Analizzando la partita Si è visto un primo tempo Molto equilibrato Tra le due squadre Scusate E molto combattuto anche Un Inter che parte un po' in sordina Ma che poi da copione Nel secondo tempo Aumenta l'intensità di gioco Aumenta l'attacco E prende in pugno la gara E si porta anche in vantaggio Con una bella girata Appunto del nostro Finalmente del nostro Lautaro Martinez Che ritorna al gol E beffa Silvestri Con un bel palo gol Appunto con un pallone Che entra dentro Un a zero per l'Inter Poi c'è il pareggio Molto fortunoso Del Verona Da parte di Ilicic Che approfitta di una papera Direi clamorosa Di Andanovic Che un po' Questo portiere Un po' Una croce di dirizia Per noi Perché ti alterna Grandissime prestazioni Come con Napoli E poi ti cade proprio Purtroppo in errori In cappelle Di questo genere Un Ilicic Ci riesce anche A approfittare Anche dell'errore Di scrigna Davanti alla porta C'è un'incomprensione Tra portiere E difensore E lui ne approfitta E la butta dentro Un errore Comunque Che per fortuna Riusciamo a L'Inter riesce a rimediare A questo errore Appunto di Andanovic E scrigna un pochino Si fa perdonare Perché Diciamo che poi Segna il secondo gol Appunto per l'Inter Di testo Una bella inzuccata E Su un corno Dalla destra E Ci regala Così la vittoria I tre punti Di questi tre punti Comunque importanti E Verona Con un bel Un bel gesto atletico Niente Con questa vittoria Ragazzi Andiamo a 33 punti A un punto Da questo Il Milan Capolista Purtroppo Che Comunque prevedo Che prima o poi Avrà uno stop Perché non può comunque Continuare Con questo trend Da come la vedo io Questo Milan Che I primi in classifica Al di là Al di là Di ogni aspettativa Di ogni previsione Ci sarà quindi Questa sosta natalizia E si tornerà in campo Quindi con l'anno nuovo Il 3 gennaio E quando ospiteremo Crotone Al mezzo Io ragazzi Ho terminato Questa è un po' la mia analisi Sono contento che Ho tornato al gol Lautaro Martinez Il nostro Toro Anche un bel gol Complimenti a Lautaro Io vi auguro ancora Buona Natale Da parte mia E a tutti i fratelli interisti E a tutti coloro Che mi seguono E che ci sono iscritti Al mio canale Mi raccomando Continuate a seguirmi E iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto E vi saluto Con la mia solita frase Amala sempre e comunque Sempre Forza Inter ragazzi Ci vediamo Molto presto Con altri miei video Vi faccio gli auguri Di buon Natale Ancora una volta E sempre Amala Un bacione Dallo Sto Paolo Inter E speriamo anche In 2021 Migliore Da questo Di questo Perché veramente È stato un anno Veramente Negativo Sotto ogni punto di vista Ciao a tutti ragazzi Alla prossima E sempre Forza Inter Ciao